Per la comunità cristiana di Lucca e grazie al pellegrinaggio, direi, per i cristiani d'Europa, il Volto Santo non è solamente un'immagine, una delle tante immagini di cui è costellata la nostra Italia, la nostra Europa, ma è una reliquia, cioè un ricordo vivente del Cristo crocifisso e risorto. Un ricordo che affonda le sue origini nell'antichità, un ricordo che ha lasciato tracce indelebili nella cultura, nella spiritualità, nella civiltà di questa città e di questo continente. È dunque un'immagine carica di significati, carica di simboli, carica di affetto e capace di dire ancora oggi il messaggio della salvezza che viene da Gesù di Nazareth, crocifisso per amore e risorto nella potenza di Dio.